Incidente mortale questa mattina poco prima delle 8 sulla statale Palermo a Grigento. Due auto, una Fiat Idea, una Punto, si sono scontrate subito dopo lo svincolo per Villa Abate. L'impatto è stato frontale ed entrambi i conducenti sono morti sul colpo. Le vittime sono Simone Pipitò, 40 anni, palermitano, Salumiera Misilmeri e Stefano Colucci, 69 anni, pensionato di San Viaggio, Platani. Il primo stava andando a lavoro, il secondo viaggiava verso Palermo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e le Ambulanze del 118. Per chiarire la dinamica si attendono i rilevi che sono stati affidati alle pattuglie del distaccamento di Buonfornello. I corpi sono stati estratti dalle macerie e dai Vigili del Fuoco. Coinvolte anche altre due vetture nell'incidente, ma gli automobilisti sono rimasti illesi. A chiamare i soccorsi sono stati proprio loro. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Intanto il tratto stradale è stato chiuso. Chi arriva da Grigento deve deviare per lo svincolo di Misilmeri e chi viaggia da Palermo dovrà prendere lo svincolo per Villa Abate. Grazie a tutti.